Durante la serata di Aloy nella casa del grande fratello tra vino e spumante, Alex, Sofie e Soleil vanno nella stanza dei baci. Iniziano a ridere e scherzare finché Alex inizia a voler provare il bacio cinematografico con Sofie. I due iniziano a baciarsi e Sofie subito si stacca dicendo Alex ha messo la lingua. Alex nega e dice ora proviamo con Soleil. I due si baciano. Poi è il turno di Sofie e Soleil che si danno un bacio vero altro che cinematografico. I tre ragazzi come accadeva ad alcuni alle feste giocando a obbligo verità utilizzano la scusante del bacio cinematografico per baciarsi e dare sfogo alle loro sensazioni del momento. Anche perché il bacio cinematografico si fa sul set mentre si recita e non in privato. La moglie di Alex a questo punto visto che Alex si è divertito a baciare due donne dovrebbe intervenire da donna e cercare un confronto e chiedere rispetto perché Alex non sta rispettando il suo matrimonio. Anzi ha fatto di tutto per portare a se le due donne e togliere a Gian Maria seminando odio tra loro. Alex è molto bravo con le parole quindi vorrà sicuramente convincere tutti del fatto che era una prova cinematografica ma il pubblico non è nato ieri. Canale YouTube Fabio Pecce